La crisi non è finita, anzi, è la cruda disamina dell'ex ministro del Welfare, Damiano, che questa mattina si è incontrato con i vertici regionali e provinciali di Chieti del PD. Purtroppo il territorio ha questa crisi molto più pesante della media italiana, bisogna però dire che l'Italia non se la passa bene nel suo complesso. Io vorrei ricordare che qui c'è un incremento di cassa integrazione di quasi il 600% nel 2009 rispetto al 2008 e poi c'è questo problema di una lentezza nel recupero. Credo che sia un dato generale per l'Italia perché tutti sanno perfettamente che anche qualora ci fosse una ripresa, e non c'è questa ripresa, l'occupazione continuerebbe a perdere colpi per un lungo periodo di tempo. Questo è il problema, noi non ci rendiamo conto, vale per Chieti, vale per l'Italia, che se non si interviene dopo la cassa integrazione, finiti gli ammortizzatori sociali, arriveranno i licenziamenti. Il dato preoccupante per questo territorio, ad esempio, è la messa in cassa integrazione di un grande stabilimento come la Sevelson, 6.000 persone, tutto il gruppo FIA sarà in cassa integrazione per due settimane, è un segnale poco rassicurante. Le ore di cassa integrazione in Abruzzo e nel Chietino sono aumentate nello scorso anno ben al di sopra della media nazionale. Nonostante tutto sono mancate politiche attive di sostegno infrastrutturale. Il PD, Boccia Regione, Provincia e Governo Nazionale. Bisognerebbe che anziché portare in Parlamento con urgenza il legittimo impedimento e le leggi personali del Premier, si calendarizzasse, come ha chiesto il Partito Democratico, o qualcos'altro, ad esempio gli ammortizzatori sociali, ad esempio il tema dell'occupazione, il reddito delle famiglie, arrivare a fine mese. Rispondere, reagire alla crisi vuol dire dare potere d'acquisto per maggiori consumi e vuol dire maggiori investimenti per la ripresa a partire dai settori strategici dell'economia.